Ciao a tutti ragazzi, io sono Sofia. Oggi vi racconto una storia. Allora, prima di tutto la dovrete fare. Quindi, prendete un foglio, dopo scrivete. Se non sapete scrivere o leggere, vi aiuta o mamma o papà o i parenti o amici. E dopo, quello che avrete scritto, lo disegnate e dopo lo colorate. Dopodiché che avete disegnato e colorato, allora, ora dovete ritagliare. Dopo dovete metterli in ordine. E dopo di che noi, noi, raccontiamo la nostra storia che abbiamo noi creato per voi. C'era una volta un topolino che viveva nel bosco dove non arrivava mai il sole e tutto era avvolto nella fitta nebbia. Non tanto lontano, in un prato fiorito, viveva una piccola topolina. Un giorno, i due si incontrarono e iniziarono a giocare insieme. Dopo qualche giorno, tutti gli abitanti del bosco non parlavano d'altro che del matrimonio dei due piccoli topolini. I due decisero di andare a vivere nel bosco portando tra la fitta nebbia il sole splendente. Spero che vi sia piaciuta la mia storia e anche voi create tante altre.